Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Domenica Sport in diretta dagli studi di Super J Adriatica a Giulianova puntata numero 23 in questa domenica 3 marzo 2024 parleremo di calcio di serie C di serie D focus sulla promozione e poi ovviamente anche le altre discipline sportive vi dico subito che l'Abba Pineto ha fatto suo il derby in casa dell'Ortona un secco 3 a 0 in binazionale di basket invece sconfitta al fotofinish per Roseto sul parquet dell'Andrea Costa Imola in B interregionale iniziata la seconda fase vittorie per Roseto 2020 e Teramo a spicchi questo per le altre discipline sportive ieri e la vittoria anche dell'amicacci Abruzzo in trasferta in gara 1 di semifinale per quanto riguarda il basket in carrozzina grazie a Pietro Baldassarre a Francesco Di Carlo in regia soprattutto grazie ai miei ospiti che sono qui in studio a Giulianova e ringrazio vicino a me Vincenzo Aureli allenatore del piano della lente buonasera buonasera grazie di essere con noi e grazie di essere con noi è Giuseppe Adamoli allenatore del real guardiavomano buonasera a tutti buonasera parleremo ovviamente del girone A di promozione il focus vi faremo vedere due servizi il piano lente che ha bloccato il Montorio 2 a 2 real guardiavomano che ha imposto proprio lo stop oggi pomeriggio nella gara contro la Fucenze Trasacco due società che oltre ai rispettivi obiettivi sono un po' arbitri sono state un po' arbitri in questo fine settimana della lotta al vertice nel girone A di promozione ne parleremo ma ovviamente come sempre ora la carrellata di risultati partendo dalla serie C di calcio qui il per quanto riguarda le abruzzesi il Pineto ha giocato venerdì contro la carrarese 0 a 0 al pari di Cesena Virtus Entella parliamo della giornata numero 29 Torres Pescara invece 4 a 1 Fermana Olbia 2 a 2 Juventus Next Gen Gubbio 2 a 2 Vispesaro Pontedera 0 a 1 Arezzo Ancona 3 a 0 Perugia Re Canatese 1 a 0 e le due gare di oggi Lucchese Rimini 2 a 1 e Sestri Levante Spal 2 a 3 in classifica oramai il Cesena viaggia speditissimo 74 punti Torres 62 Carrarese 53 Perugia 52 Gubbio 48 Pescara 44 Pontedera 42 Juventus Next Gen Arezzo Rimini 38 Pineto 37 Lucchese 35 Virtus Entella 34 Vispesaro Spal 32 Ancona 30 Sestri Levante 28 Re Canatese 27 Olbia 22 chiude la fermana con 20 punti la Serie D Girone F è stata un'altra giornata importante con l'allungo in testa alla classifica 25esima giornata Anvizzano Termoli 0 a 0 il rovescio pesantissimo del Chieti a Fano 5 a 1 Forse Empronese Notaresco 2 a 0 Roma City L'Aquila 0 a 1 Soramatese 4 a 1 Tivoli Campobasso 0 a 2 Vasto Girardi United Riccione 1 a 0 San Benettese Real Monterotondo 1 a 1 Vigor Senigalli Atletico Ascoli 0 a 1 in classifica come detto prova a riallungare il campo basso 4 lunghezze di vantaggio 53 punti contro i 49 della San Benettese L'Aquila 46 Avezzano 43 Notaresco 39 Senigalli a 38 Roma City 37 Forse Empronese 34 Chieti 33 Atletico Ascoli 31 United Riccione Messora 30 Termoli e Tivoli 28 Real Monterotondo 25 Fano 22 Vasto Girardi 21 Matese 17 vedete l'asterisco per Matese e Fano che recupereranno mercoledì la partita non disputata la scorsa settimana passiamo al campionato di promozione ovviamente in eccellenza di eccellenza se ne è parlato nell'appuntamento di Abruzzo eccellenza di finito qualche minuto fa con Fabrizia Cardenale e Lorenzo Mazzaufo partendo dal girone A di promozione piano della lente Montorio giocata ieri 2 a 2 risultati di oggi Amiternino Varano 1 a 1 Angizia Luco Pizzoli 2 a 1 Atria San Benetto Venere 2 a 0 Paganica Next Gen Virtus Barisciano 1 a 0 Pucetta San Gregorio 2 a 1 Real Guardiavomano Fucenze Trasacco 2 a 1 in classifica il Montorio nonostante il pareggio fuori casa ha mantenuto comunque la vetta 45 punti Fucenze Trasacco 44 San Gregorio 43 Angizia Luco 41 Real Guardiavomano 32 Varano Atria 30 San Benetto Venere 29 Paganica Next Gen 28 Piano della lente 26 Pucetta 23 Virtus Barisciano 18 Pizzoli 14 Amiternina chiude con 5 punti la squadra scoppitana che comunque è tornata a muovere la classifica passiamo al girone B dove prosegue la marcia inarrestabile del Mociano con la vittoria numero 11 in 11 gare in casa ventunesima giornata Santomero Turris Val Pescara 0 a 1 Cugnoli Rosetana 3 a 3 Favale Lauretum 0 a 0 Fontanelle Morrodoro 2 a 1 Mosciano Albadriatica 3 a 0 Mutignano Villa Mattoni 4 a 1 Pianella Penne 0 a 1 in classifica il Mociano sempre 11 punti di vantaggio rispetto al Penne 57 per i giallorossi 46 per i vestini Mutignano 36 Cugnoli 31 Pianella 29 Villa Mattoni 27 Lauretum 24 Rosetana e Albadriatica 23 Turris Val Pescara 22 Fontanelle Favale 21 Morrodoro 19 chiude il Santomero con 18 punti diamo un veloce sguardo anche al girone C che ha giocato ieri con il Miglianico Lanciano che ha ripreso la sua corsa Bagigalupo Vasto Marina Villa 2015 10 a 0 Francavilla San Giovanni Teatino 3 a 0 Lanciano Rapino 0 a 0 Miglianico Lanciano Atessa 3 a 0 San Salvo Casolana 2 a 1 Sporting Altino Ortona 0 a 1 Virtus Castelfrentano San Vito 83 0 a 6 in classifica come detto la Miglianico Lanciano FC ha ripreso la corsa 41 punti San Salvo 39 Francavilla 37 Rapino 36 Bagigalupo Vasto Marina 35 al pari del San Vito 83 San Giovanni Teatino 34 Ortona 31 Lanciano 25 Casolana e Atessa 24 Sporting Altino 20 Virtus Castelfrentano 19 Villa 2015 chiude con 6 punti abbiamo visto la carrellata di risultati adesso parliamo un po' di calcio di serie C venerdì sera l'anticipo tra Pineto e Carrarese con la formazione di Mister Beni che è tornata a muovere la classifica dopo lo stop di settimana prima con in casa della capolista Cesena è stato un buon punto per la formazione del Pineto che ha avuto sicuramente con Borso nel secondo tempo la migliore occasione del match rovescio invece pesante ancora quattro gol fuori casa così come a Gubbio così come a Pesaro invece per il Pescara sul campo della Torres nella gara giocata ieri possiamo vedere i gol maturati nella gara in terra sarda che la gara si era messa anche bene per il Pescara perché al trentaduesimo Merola che era in dubbio porta in vantaggio la squadra allenata da Bucaro dunque Pescara in maglia gialla eccolo qui il gol di Merola dopo trentadue minuti poi però la Torres reagisce e già nel primo tempo trova il pareggio con l'ex giocatore del Teramo Giacomo Zecca che va a segnare al quarantacinquesimo il pareggio per la Torres questo il gol dell'uno a uno e poi nel secondo tempo arrivano le altre reti il gol di Ruocco subito dopo tre minuti e venti secondi in apertura del secondo tempo per il vantaggio e il sorpasso della Torres rispetto al Pescara c'è anche il 3 a 1 dopo una traversa il colpo di testa ancora e l'indecisione della difesa del Pescara arriva il 3 a 1 firmato ancora da Ruocco al ventiduesimo della ripresa questo poi magari lo chiederò anche due misteri che sono in studio può essere anche l'emblema del momento del Pescara una disattenzione a confusione un po in fase difensiva a chiudere i conti a 11 minuti dalla fine ancora a Zecca di fatto sono stati doppiette di Ruocco e doppiette di Zecca tiro deviato il gol verrà assegnato probabilmente a Zecca ma c'è una deviazione comunque importante che ha tratto in inganno il portiere del Pescara questi i cinque gol maturati allo stadio Vanni Sanna di Zassari con la torre se consolida il secondo posto e allora sia al mister Aureli che al mister Adamoli una battuta sia sul Pineto che comunque sta facendo bene c'è stato il cambio in panchina e con ebbene adesso sta provando a inseguire il sogno playoff sempre dando un'occhiata alla salvezza e il Pescara che aveva dato segnali importanti in casa ma poi in trasferta ne prende ancora quattro mister? Il Pineto con il cambio allenatore e l'arrivo di Roberto Beni ha migliorato le ultime cinque partite ha una vinta e due, una pareggiata e due e ne ha perso solo una quindi c'è stato un segnale di risveglio per quanto riguarda il Pescara ha un andamento un po' discontinuo però è tuttora in zona playoff quindi il Pineto ha una manciata di punti quindi si stanno ben comportando forse il Pescara aveva altre aspettative ma il campionato di Lega Pro è un campionato abbastanza impegnativo quindi comunque sta ben figurando mister? Sì siamo per quello che sto seguendo la Lega Pro il Pineto in questo momento ha trovato solidità con l'arrivo del mister Beni che comunque è un allenatore di grande esperienza che ha un trascorso da secondo a collaboratore in categorie importanti ha fatto tanti anni il secondo in Serie A con l'Antuono quindi diciamo non ha bisogno di grandi presentazioni ma è un allenatore che è difficile faccia sbagliare o possa sbagliare le interpretazioni della partita di Pescara abbiamo visto le immagini in questo momento è soprattutto fuori casa sta avendo delle difficoltà come dicevi tu prima l'immagine del gol è un po' l'emblema del momento una palla è un'azione dove si è stato fortunato che l'avversario ha preso una traversa una palla con tre difensori di Pescara e in questo momento gli gira tutto tutto storto e mi auguro che che superano questa fase che si rimettono a fare punti come hanno fatto a inizio dell'anno e si possano le varie soddisfazioni che meritano. Dalla Serie C passiamo alla Serie D abbiamo visto prima i risultati la sconfitta del Notaresco sul campo della Forza Empronese era la terza gara di una settimana Notaresco che grazie ai successi contro Vasto Girardi e Fano nel recupero di mercoledì aveva centrato ed è attualmente ancora il quinto posto in piena zona playoff colpaccio dell'Aquila nelle a gara di oggi contro in casa del Roma City grazie al gol del solito Vanegas 0-0 tra Avezzano e Termoli rovescio invece pesantissimo del Chieti sul campo del Fano nonostante la prima in panchina del nuovo tecnico Pasquale Luiso allora chiedo anche da questo punto di vista le abruzzesi sicuramente l'Aquila è quella che sta provando a fare a tenere vivo il sogno per quanto riguarda il salto di categoria l'Avezzano oggi si è staccato ulteriormente mentre c'è questo Chieti che non riesce a rimettersi in gioco dopo una prima parte di campionato comunque positivo allora per quanto riguarda l'Aquila l'Aquila è una compagine abbastanza attrezzata nel mercato di riparazione a dicembre ha cambiato ben 12 giocatori quindi punta al massimo certo avanti il Campobasso è una corazzata anche la San Benedettese è una buona squadra non so se alla fine riuscirà a spuntarla su queste due però è lì è terza in classifica quindi è in piena zona playoff per quanto riguarda le altre squadre abruzzesi si stanno ben comportando tranne Chieti che purtroppo quest'anno ha avuto vari problemi ha cambiato più allenatori quindi sta avendo una stagione un po' così diciamo particolare però speriamo che risolvano tutti i problemi che possa rimettersi in gareggiata con il resto delle squadre abruzzesi io da questo punto di vista non vi chiedo niente perché siete parti in casa come siete degli allenatori però resta il fatto ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane che mister Chianese è stato cambiato dopo una vittoria netta contro il Matese perché la squadra non giocava non esprimeva un gran calcio e poi sono arrivati dei risultati alterni sicuramente con le altre due tecnici oggi poi la sconfitta nettissima Coulibaly e Ricci ancora Coulibaly e doppietta di Zanni per il Fano al trentesimo invece il momentaneo 2 a 1 a firma di Salvatore per il Chieti diciamo del notaresco sconfitta a forse impronese con la doppietta dell'ex Casola mentre il gol di Banegas per l'Aquila mister chiedo anche a te è bello vedere le abruzzesi tutte nella parte sinistra della classifica lottare per le parti alte c'è solo questo Chieti che in questo momento sta facendo fatica sì allora io l'Aquila è la squadra che ho visto e sono convinto che sarà lì fino alla fine ci proverà in tutti i modi c'è un allenatore che non mollerà un centimetro comunque la squadra io l'ho vista nella sconfitta sfortunata con l'Atletico Ascoli ad Ascoli però ha un'identità precisa gioca il calcio di Cappellacci e ha a qualità di rosa a profondità di rosa quindi secondo me l'Aquila sarà attaccata al duetto di testa fino alla fine e se addirittura ci fosse un passo falso non dico che non nego che potrebbe infilarsi notaresco è una squadra che vedo quotidianamente perché ci alleniamo sempre lì quindi so e lo vivo quotidianamente è un ambiente di ragazzi giovani uno un allenatore preparatissimo uno staff forte è una squadra che vive sull'entusiasmo oggi viene da una sconfitta però mercoledì aveva vinto una grande partita fuori casa e ha ragazzi di grande di grande prospettiva quindi sicuramente continuerà su questo trend invece per quello che riguarda Chieti è una situazione che non conosco quindi difficile per me giudicare ma è normale che quando inizio dell'anno si fa una rosa per stare se non primo secondo terzo in classifica trovarsi a lottare poi è dura no è dura cambiare atteggiamento e devono avere la bravura di in questo momento di di imbedesimarsi in quello che è la classifica e di continuare a fare punti per scongiurare altri passi falsi archiviamo anche il capitolo dedicato alla serie d ci trasferiamo direttamente alla promozione nel girone a prima dello spazio pubblicitario ci andiamo a vedere quanto è successo oggi all'errando ruggeri di villavomano nel match tra real guardiavomano e fucenze tra sacco tre risultati utili di cui due vittorie di fila per il real guardiavomano che vuole tirarsi fuori dalla zona calda sei partite senza sconfitte per la fucenze tra sacco tra i terramani out per squalifica tarquini rientra di giacinto tra i massicani il tecnico giordani ripropone angelini e bisegna in panchina persia nel primo tempo davvero poche le emozioni una per parte con le due compagini che si pronteggiano senza commettere sbavature all'undicesimo ci prova mozzetti con palla che si perde sul fondo stesso discorso per la conclusione da dentro l'area di cascioli per i locali con palla alta di un niente al venticinquesimo decisamente più vivace la ripresa al settimo passa il guardiavomano con cascioli che sfrutta un bell'assist di un compagno da sinistra ed una disattenzione della difesa dei trasaccani che provano a reagire al sedicesimo con una punizione dello specialista bisegna che lambisce il palo alla destra di spinelli è un guardiavomano attento e determinato ed al ventiseiesimo arriva il raddoppio calibratissimo il calcio di punizione perfetto in area lo stacco di di giacinto che anticipa tutti e mette dentro 2 a 0 neanche il tempo di festeggiare che la fucenza accorcia con mozzetti che pesca all'angolino con un tiro bellissimo e resta da giocare più di un quarto d'ora grande la pressione degli ospiti ma i padroni di casa si difendono bene da allora l'unica chance degna di nota arriva al 44esimo con fantozzi che ci prova e spinelli che respinge con sicurezza dopo sei e più minuti di recupero fischio finale il real guardiavomano di mister adamoli vince ancora e scala posizioni in classifica per la fucenza e tra sacco una sconfitta che fa male e fa perdere la vetta abbiamo visto dunque quanto è successo oggi a villavomano la vittoria del real guardiavomano che conferma il suo momento molto molto positivo e ferma la corsa della fucenza e tra sacco ne parleremo con gli ospiti vedendo anche il servizio della gara di ieri tra pianalente e montoro e le interviste tra qualche istante dopo la pubblicità eccoci tornati in diretta prima dello break pubblicitario abbiamo visto il servizio su guardiavomano fucenze tra sacco mister dicevamo un guardiavomano che in questo giorno di torno sta andando decisamente bene ha cambiato passo vieniva dalla vittoria contro il sammetto venere in trasferta e adesso ha fermato un'altra squadra che comunque prima dell'inizio del match era in testa alla classifica sì 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 stiamo è un periodo che in cui la squadra sta bene l'ho detto anche in interviste precedenti ma in realtà noi siamo mancati in un periodo ben preciso che è il mese novembre in cui in cinque partite abbiamo fatto un punto se no la squadra era partita bene inizio anno e se non ricordo male in quattro partite avevamo già dieci punti e poi abbiamo avuto la sconfitta in casa con San Gregorio che è in cui tra infortuni e diciamo situazioni che si sono venute a creare si siamo un po' scollati abbiamo perso un po' di fiducia e ci siamo trascinati dietro delle difficoltà e da dicembre la scuola si è compattata la società con anche con il mercato ha messo a disposizione dei cambiamenti che abbiamo condiviso e che ci hanno portato risultati entusiasmo e in questo momento stiamo bene stiamo giocando con intensità con anche con discreta qualità normale che la mia ambizione è quella di migliorare ancora quello che stiamo facendo però oggi sono 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 contento cioè sono due domeniche che i ragazzi stanno facendo le partite importanti contro squadre forti esperti perché vincere a San Benedetto non è facile e vincere in casa contro la Fucenze che più in classifica con la rosa che hanno con la qualità dei giocatori che hanno è stato è stato la cittadina sulla torta normale che gli ultimi dieci minuti abbiamo avuto grande sofferenza cosa che dobbiamo migliorare perché dobbiamo imparare a gestire la palla in certi momenti però è pure vero che non puoi non puoi pensare di in promozione di fare una partita contro la il trasacco e non soffrire in vantaggio gli ultimi dieci minuti quindi prendiamo tutto di buono adesso ci abbiamo stasettimana per ricaricare le pile e poi le ultime cinque partite in cui proveremo a fare il massimo di quello che è nelle nostre potenzialità come detto in apertura del tuo discorso avete iniziato bene la stagione perché di fatto il Mociano il girone B ne ha perso due di partite in stagione entrambi in Coppa Italia una con voi nella gara di andata il primo turno e una Paganica poi Paganica al ritorno ne hanno fatte otto sì poi io con Mociano un buon rapporto giocato lì quindi me l'hanno detta questa cosa dei compagni ex compagni squadra che sono attuali giocatori dirigenti penso che le sconfitte siano diverse perché il Mociano ad agosto e comunque venne a giocare la prima partita ufficiale e fu una partita complicata e difficile in cui soffrimmo però facciamo una grande prova d'orgoglio e di forza col Paganica secondo me hanno giocato qualche seconda linea che pure Mociano non penso abbia seconda linea perché è una corazzata però magari era convinta che comunque nella partita andata il ritorno l'avrebbero spuntata quindi penso che la prima sconfitta che hanno subito per noi deve essere un grande vanto un grande orgoglio però fa parte del passato adesso c'è da pensare alle prossime cinque partite. Torniamo alla gara di Villavomano andiamo a sentire le interviste realizzate a fine gara con il tecnico della Fucenze Giordani e uno dei due autori dei gol del Guardia Vomano di Giacinto. Il gol del 2 a 0 raccontiamolo una bella incornata sfruttando un bel calcio di punizione. Sì sono contentissimo del gol, sono contentissimo della vittoria ce la meritavamo e sono contento della prestazione dei miei compagni abbiamo lavorato tanto questa settimana e ci siamo meritati la vittoria sul campo. Una vittoria che conferma comunque l'ottimo momento dopo San Benetto fermate anche quella che prima di oggi era la capolista. Sì noi lavoriamo sodo ogni giorno tutta la settimana e facciamo dei sacrifici come tutti dimostriamo in campo che siamo una squadra che nel girone di andata purtroppo non meritava per niente i punti che aveva quindi siamo usciti siamo un grande gruppo sul campo si vede. Da qui alla fine possiamo dire che non c'è un vero e proprio obiettivo volete vincerle tutte o comunque calare la classifica. Sì noi cerchiamo di fare più punti possibili da adesso fino alla fine del campionato noi giochiamo partita per partita e cerchiamo di vincerle tutte. Mister ci avete provato fino all'ultimo è arrivata questa sconfitta in un campionato che si conferma sempre più incredibile. Sì il campionato difficile una sconfitta che fa male da un punto di vista del morale però diciamo sapremmo che veniamo a giocare su un campo difficile con una squadra che ultimamente stava insomma stava in forma però mi dispiace perché insomma alla fine abbiamo reso le donne veramente da poveri, soprattutto il primo c'è stata proprio veramente un grosso errore poi il secondo anche la solita costante con le testa che prendiamo però poi la squadra ha reagito, ha provato in tutti i modi, ci abbiamo messo tutto anche se siamo stati pochi lucidi, c'è un problema di Bisegna che al fine del primo tempo si è fatto male e quindi voglio rimanere in campo nonostante tutto però diciamo ci abbiamo creduto da un punto di vista di voglia e di atteggiamento però siamo mancati un po' in fase di rifiuto. Abbiamo sentito le interviste dunque di questo match tra parentesi a fine gara parlavamo lì anche col direttore Davide di Gianluca siete ora al quinto posto dietro le squadre che si stanno giocando di fatto il primo posto a 32 punti, troppo quest'anno con questa riforma il campionato è tutto non si può dire arrivo a 40 punti e mi salvo diciamo qual è la quota diciamo? Ma allora io è il primo anno che faccio l'allenatore quindi sono anche poco esperto in in calcoli e quindi guardo voglio essere pratico io in questo momento sono a quattro punti da dalla zona salvezza e sono pochi perché i risultati vediamo oggi due squadre che fino a qualche settimana fa sembravano arrancare hanno vinto partite importanti la Mitenina ha fermato il Varano il Pucetta ha vinto San Gregorio e sotto sono convinto che le squadre non molleranno niente quindi dobbiamo assolutamente tenere ancora ancora ma dovremmo tenere fino alla fine concentrazione perché prima di tutto c'è da guardarsi dietro e poi vediamo in questo momento abbiamo fatto contro squadre forti e abbiamo fatto bene i ragazzi si stanno prendendo convinzione che sono sono questi e non quelli del mese di novembre quindi io come ha detto Di Giacinto ma questa è una cosa che nell'intervista è una cosa che gli ho detto anche io se gli obiettivi non ce l'hanno perché sopra vinceranno tutte le partite i playoff non si faranno e noi dobbiamo prima ci guardiamo dietro e poi dobbiamo pensare ognuno agli obiettivi personali del gruppo di un gruppo che sicuramente sicuramente deve capire che è in deficit di punti rispetto alle qualità che ha e quindi concentrazione tanto il campionato è lungo e io non gli regalerò un giorno di allenamento né un minimo di tensione saremo lì e ci giocheremo partita con partita è normale che giocarci a 32 punti ci da serenità mister Aureli vengo da te soprattutto perché il collega Adamoli ne ha parlato e un girone questo soprattutto magari nella giornata di oggi che ha espresso proprio quanto di più risultati davvero importanti e anche un po' sorprendenti sì la giornata di oggi a noi non ci è andata bene perché come ha detto il ministro Adamoli il Pucetta ha vinto quindi ha accorciato ha accorciato ulteriormente e a oggi non possiamo dire neanche la quota salvezza che punteggio ci può stare perché se sesso giù continuano a vincere è logico che la quota salvezza si alza per quanto riguarda la nostra posizione adesso ci si è messa con i risultati d'oggi ci si è messa un po' ci si è complicata un po' però mancano cinque partite abbiamo partite abbordabili abbiamo anche degli sconti diretti quindi ce la giocheremo fino alla fine per evitare la griglia dei play out intanto andiamoci a vedere quanto è successo ieri a Torricella Sicura nel derby piano a lente Montorrio 2 a 2 a Torricella Sicura va in scena il derby terramano piano della lente Montorrio tre sconfitte di fila per i padroni di casa quattro risultati utili per i gialloneri che vogliono difendere il primato in classifica Aurelli recupera Verruschi e Pastorini ma perde per squalifica Calvarese sul fronte opposto dei amici se lamenta le defizioni di Cipriani fermato dal giudice sportivo e Chiacchiarelli fermatosi in settimana per un problema muscolare diversi anche gli atleti acciaccati tra cui Maselli ottavo e Rapagnani il primo portiere ad essere chiamato in causa dalla combinazione tra Vigiano e Sanchez è sempre un numero dieci ma dall'altra parte al nono ad avere un'ottima chance e Leonzi non arriva sul secondo palo per la deviazione sottoporta. Il giocatore giallonero è però puntualissimo a mettere dentro al dodicesimo il perfetto assist di Capitano e Ridolfi si sblocca subito il match. Minuto 14 azione confusa con i padroni di casa che sfiorano il pari la zuccata di Vigiano coglie la traversa. Dieci minuti più tardi mister Aureli è costretto al primo cambio Lolli toccato duro in precedenza lascia il posto a Bucciarelli. Al 29esimo il pari del piano nella lente al termine di una bella combinazione assist di Sanchez da pochi passi Vigiano non sbaglia. Il Montorio torna a farsi vedere nell'area avversaria al 34esimo con Leonzi il più pericoloso dei suoi che cerca la deviazione volante sull'imbeccata di Di Sante. Numero 8 che al 37esimo ci prova su calcio di punizione sfera che non trova lo specchio della porta per questione di centimetri. In pieno recupero l'ultima emozione del primo tempo al 46esimo incrocia male di testa da ottima posizione Leonzi. Stenta a decollare la ripresa mister De Amicis al 13esimo rinforza il reparto offensivo con Gardini che prende il posto di Pincelli ed al 16esimo il Montorio torna avanti. Cross calibratissimo di Mosca colpo di testa imperioso di Leonzi che fredda di Giuseppe e griffa la personale doppietta. Ha subito la chance del pari il piano della lente con Balanzino al 19esimo colpo di testa alto sugli sviluppi di angolo. Altrettanto ghiotta l'occasione del 28esimo Vigiano arriva in ritardo di un soffio sulla punizione calciata da destra. Il match è piacevole con il piano della lente che non molla la presa e spinge la ricerca del pari ed il Montorio che in contropiede non trova lo spunto vincente. sfiora la rete Capitan Ridolfi di testa al 40esimo palla alta in pieno recupero al 49esimo Di Giuseppe attento su Di Sante ma al quinto dei sei minuti di recupero dopo una corta respinta di Rapagnani contatto in aria tra Di Sante e Balanzino. Cianca dell'Aquila non ha dubbi e calcio di rigore Vigiano va dal dischetto e trasforma regalando il pari al piano della lente due a due. Un pari che accontenta di certo più il piano della lente decisamente meno il Montorio. Abbiamo visto il match mi verrebbe da dire fino all'ultimo respiro perché ha segnato i sei minuti di recupero e proprio al sesto di recupero è stato questo calcio di rigore. Che match è stato? Abbiamo visto le immagini alla fine il pari comunque sostanzialmente sta. Sì è stata una partita abbastanza equilibrata. Il Montorio ha avuto qualche occasione in più nel primo tempo noi abbiamo colpito la traversa con Vigiano anche nel primo tempo però poi il secondo tempo è stato abbastanza equilibrato loro a parte il gol non ci hanno impensieriti affatto e abbiamo tenuto campo fino alla fine. Poi loro si sono lamentati per il rigore che non c'era ma dalle immagini penso che il rigore ci stia tutto. La fine è risultato il pareggio è risultato più giusto. Ne parlavamo sia anche oggi prima del match a Guardia Romano dicendo che Pianalente anche con gli innesti fatti nel mercato di dicembre ma soprattutto adesso è una squadra diversa che comunque gioca, è una squadra temibile per tutti. A giocare noi giochiamo, cerchiamo sempre di giocare a calcio tutte le domeniche poi purtroppo c'è anche l'altra squadra in campo. A dicembre, quando riguarda dicembre il mercato di riparazione non ci siamo mossi più di tanto, abbiamo preso due ragazzi del 2005 che non giocano quindi non è che ci siamo rinforzati. E la stessa squadra del girone di andata ha cambiato mentalità, abbiamo sicuramente abbiamo un'età media di 23 anni e in alcune partite, in alcune occasioni abbiamo pagato anche questa cosa perché ci è mancata l'esperienza, la determinazione che oggi ancora abbiamo. Stiamo facendo un campionato diciamo abbastanza discontinuo. 4-5 partite fa eravamo a una manciata di punti dai play-off, ora ci troviamo a lottare per la salvezza e quindi la situazione si è fatta un po' più complicata come ho detto prima. Infatti con questo pareggio avete interrotto una serie di sconfitte però anche ieri si è vista una squadra che ha grinta, che ha cattiveria agonistica e che ha garra fino alla fine soprattutto perché è composta sostanzialmente da diversi giocatori sudamericani e argentini in particolare. Sì, purtroppo i argentini sono abbastanza calienti, loro a fine partita si lamentavano anche per questo però poi è logico quando non vinci oppure quando ti aspetti di vincere non lo fai, va cercando tutti. Però sono così, in mezzo al campo ce la mettono tutta, penso che lo farebbero tutti a prescindere da argentini e italiani. Purtroppo ne abbiamo abbastanza, ne abbiamo otto, quindi è così. Adesso, domenica prossima c'è la sosta nel campionato di promozione poi parleremo dei prossimi impegni che attendono Real Guardia Romano e Pianalente e noi intanto facciamo un focus sulle altre discipline sportive. Per quanto riguarda la palla a volo, una due maschile, Vittoria, come vi ho detto in apertura, dell'Abba Pineto nel derby di Ortona, 3-0 secco fuori casa, 15-25, 23-25, 21-25, i parziali, tre punti preziosissimi per la squadra pinetesia in ottica salvezza, era uno scontro diretto. Per quanto riguarda la futura quarta di ritorno, Vittoria netta contro il fanalino di coda Benevento al pala Pellegrini per la squadra bianco-rossa, 11 punti di Mazzagatti come miglior realizzatrice, 3-0, 25-12, 25-16 e 25-12. I parziali, in C femminile invece c'era la sosta, non si è giocato, si riprenderà sabato prossimo con l'ottava di ritorno che profonde il piatto forte, quello nel derby tra Virtus Teramo e Giulianova. Il basket femminile, la sconfitta delle Panthers Roseto, una due femminile sul campo della capolista Udine, 83-61, qui potete vedere anche i risultati, assenze ancora di Botteghi, Miccio e Obofegue, 14 punti di Bona e 11 di Maroglio, con l'esordio in panchina di coach Buzanca per le Panthers di Roseto, sconfitte a Udine, possiamo vedere anche la classifica con Udine che comanda, ora sono sei punti di vantaggio rispetto alle Panthers Roseto, ma vi ricordo anche l'appuntamento per l'infrasettimanale, comunque per il prossimo fine settimana, perché ci saranno le finali, le finalette di Coppa Italia, proprio di basket di A2 femminile, che vedranno tra i protagonisti le Panthers Roseto, presentate giovedì mattina e che saranno ospitate al Pala Maggetti di Roseto, un appuntamento sicuramente importante. Per il basket in carrozzina, vittoria in gara 1 di semifinale playoff, Scudetto della Micaccia Abruzzo, 65-69 sul campo di Santo Stefano, sabato 16, gara 2, adesso c'è una sosta, poi sabato 16, gara 2 al Pala Castrum di Giulianova, nell'altra semifinale, vittoria della Briantea Cantù, 70-59 contro Sassari, una vittoria sicuramente importante per la squadra di coach Carlo Di Giusto. Per il basket in binazionale, la decima di ritorno, sconfitta al fotofinish e questi sono i risultati per Roseto sul campo dell'Andrea Costa Imola di coach Emanuele Di Paolo Antonio, 78-77, 18-24 il primo quarto, 45-43 a riposo, a fine terzo quarto Imola era avanti 71-58, c'è stato un desperato tentativo di rimonta da parte della squadra di coach Gramensi che poi si è dovuta arrendere, 21 punti di Tamani e 18 di Durante, questi sono i risultati, vediamo la classifica soprattutto perché Roseto, alla luce della vittoria di Ruvo di Puglia, perde il primo posto e viene agganciata da San Vendemiano al secondo posto a quota 40, sale anche Iesi e quota 38, sconfitta per Chieti che scivola nella parte destra della classifica, stop sul campo di Fabriano per i Teatini, questa è la classifica nella serie binazionale Girone B. Iniziata invece anche la seconda fase per quanto riguarda la B interregionale, Neiple in Silver, vittoria netta con una prestazione davvero incredibile, strepitosa la formazione della Teramo a spicchi, 94-67 contro Ferentino di coach Gianluca Lulli che è tornato a Teramo guidando la formazione laziale, poi le vittorie di Portore Canati sull'Esperia Cagliari e la sconfitta interna dell'amatori Pescara contro Carver Roma, anche la vittoria di Pisarum contro la Stella Azzurra Viterbo, questo nella prima giornata di play-in Silver, nei play-out Roseto 20-20 che doveva vincere perché si è trovato in una situazione un po' complicata, vittoria contro la Fortitù di Sernia 73-56, Civitanova che ha battuto Mondragone 78-63, Pescara Basket che ha battuto Grottaferrata, un po' sorpresa la sconfitta del nuovo basket aquilano contro Ancona da questo punto di vista. Per Roseto 20-20 l'esordio di Perella e Cocciaretto che sono arrivati in settimana, non c'era Provenzano infortunato, 18 punti di Maretto, 17 di Lestini come migliori realizzatori, per quanto riguarda la Teramo a spicchi, 25 punti di Trovarelli, 16 di Zalalis e 15 a testa per Di Febo e Di Paolo. Concludiamo con le discipline sportive, dando un'occhiata alla palla a mano in a Silver, soprattutto perché andiamo a celebrare una vittoria che torna a distanza di diversi mesi, l'ultima il 18 novembre, sempre in casa e sempre contro una siciliana, la vittoria 28-27 della Lions Teramo contro Palermo, un successo sicuramente prezioso e importante, con sei reti di toppi, quattro di Murri e Camaioni come migliori realizzatori, soprattutto vi diamo la vittoria perché permette alla formazione teramana di salire a quota 4 in classifica, agganciando Palermo e questo, dal punto di vista della salvezza, è sicuramente un viatico importante per la formazione di Settimio Massotti che ora dovrà cercare di dare continuità. Noi prima dei saluti finali torno a parlare di promozione, soprattutto perché abbiamo detto che adesso il campionato si ferma, che nel fine settimana, sabato e domenica, si giocheranno però le semifinali è andata di Coppa Italia, sabato Mociano Penne al Mario Rodi, domenica al Davide e Matteo 5, ci sarà invece il match tra San Gregorio e San Vito per le semifinali di andata e ritorno il 20 marzo, mentre Aurelio e Adamoli pensano già ai prossimi impegni che ci saranno dopo la sosta, il Pianalenti giocherà? Noi giocheremo in casa contro il Paganica. Un match sicuramente dovrò partire? Sicuramente no. Tre punti sicuramente importanti in paglia in quel match contro il Paganica che in questo momento ha due punti di vantaggio rispetto a voi in classifica. Il Guardiavomano invece? Noi andremo a Barisciano. Altra squadra che sta provando a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica. Sì. E allora in bocca al lupo sia al Pianalente che al Real Guardiavomano, grazie di essere stati con noi a Vincenzo Aureli. Grazie a voi. E Giuseppe Adamoli. Grazie e crepi il lupo. Grazie a Pietro Baldassarre e Francesco Di Carlo in regia. Grazie a voi tutti che ci avete seguito. Io vi lascio alla buona serata, soprattutto in nostra compagnia con il ricco programma sportivo che ancora non finisce. Vi do appuntamento al prossimo Domenica Sport, sempre qui da Giulianova. Buona serata. Grazie a tutti.